Siamo di fronte all'ingresso della bellissima facciata della chiesa di San Francesco di Cagli con Giuseppe Aguzzi appassionato delle bellezze dei monumenti cagliesi col quale andremo a vedere dove era posizionata un'opera pittorica che è stata trafugata dai napoleonici da questa chiesa e portata al museo di Brera Prego Giuseppe Molto probabilmente questo bellissimo politico conservato oggi a Brera era posizionato sulla mensola più alta dell'altar maggiore come tutte le opere d'arte importanti venivano posizionate con l'avvento e il passaggio dei francesi qui a Cagli quindi con l'impero napoleonico molte opere furono portate via, trafugate nel vero senso della parola per portarle in Francia si fermarono però a Milano e furono messe nella Accademia di Brera nella Pinacoteca di Brera questo politico è molto interessante perché innanzitutto in struttura linea linea tutta dorata sono raffigurati molti santi tra cui spicca alla destra del trono della Madonna proprio San Francesco che è il titolare di questa chiesa L'opera a grosso modo di che dimensione era? Non riesco a dirtelo bene come poteva essere in centimetri o in metri comunque considera che buona parte della messola superiore dell'altare era presa da questo politico il quale come altezza credo che sia sui due metri quindi due metri a venti di preciso non so dirtelo perché l'abbiamo visto a Cagli qualche anno fa però è arrivato e ripartì quindi ecco un altro quadro che è stato sottoposto e doveva essere portato via dai francesi è questo qui questo con San Gaspare se si vede bene da una parte c'è ancora il sigillo in Ceralacca che era l'autorizzazione a portarlo via vedo che hai in mano una copia un po' sbardita di una foto dell'opera magari se ne hai una migliore poi possiamo anche vederla c'è senz'altro migliore questa è una stampa venuta un po' così però ecco Mario vi farà vedere appunto la fotografia molto più bella dell'opera intera e quindi potrete gustarla nel vero senso della parola A presto quella era l'immagine giustamente un po' la prima sbiadita dell'opera però qui vicino proprio qui vicino a Fabriano all'erimo di Val di Sasso un'opera simile un politico simile che è stato ugualmente trafugato è stato poi riprodotto c'è una copia che è bellissima vederla sembra proprio un originale ed è stata riposizionata nella chiesa dove era originariamente pensi che sia ipotizzabile una scelta del genere anche qui a San Francesco? ma sarebbe bellissimo però se uno fa una copia bisogna che per fare una copia occorre il permesso della sovrintendenza perché se no uno può essere giudicato come falso insomma ecco quindi sarebbe bello ma è bene avere tutti i documenti esatto c'è un iter procedurale molto ben preciso potremmo vedere se fosse possibile collegarci con Fra Ferdinando Campana dell'erimo di Val di Sasso dove appunto è stata fatta questa riproduzione dell'opera presente in quell'erimo e quindi sentire avere anche delle informazioni da lui Siamo nell'erimo di Santa Maria di Val di Sasso di Valleremita di Fabriano l'erimo fu iniziato nel VIII secolo come monastero di monache benedentine nel 1210 è passato San Francesco e i fablianesi gli hanno donato quello che era e rimasto nell'antico monastero le monache le avevano abbandonate nel 1157 i frati vissero qui nel 200 e nel 300 le monache mantenero la proprietà finché nel 1405 Chiavelli che era il signore di Fabriano acquistò la parte che era rimasta dell'antico monastero e terreno circostante e costruì l'eremo per i frati francescani e commissionò al più grande pittore dell'epoca gentile da Fabriano commissionò il politico di cui noi qui abbiamo una copia una copia perché l'originale fu asportato nel 1810 dalle truppe napoleoniche è portato alla Pinacoteca Brera di Milano come il politico di Niccolò di Liberatore detto l'alunno di Cagli e che è stato ricomposto anch'esso alla Pinacoteca Brera di Milano il politico è stato fatto come copia nel 1981 da una monaca Clarissa di Verona e raffigura l'incolorazione della Vergine Maria al centro con i padri gli angeli serafini e cherubini e poi San Girolamo San Francesco San Domenico Santa Maria Maddalena le figure maggiori e quelli invece superiori San Giovanni Battista San Piero da Verona San Antonio di Padova San Francesco che riceve le stimmate e in alto la crocifissione questo politico come quello di Cagli è stato fatto in copia perché la Pinacoteca Brera di Milano ha dato l'autorizzazione quindi se anche gli appassionati della storia di Cagli volessero riprodurre questo politico ci sono persone che lo possono molto bene realizzare Cagli è per noi una città profondamente francescana i frati minori truzzero a Cagli nel 1234 otto anni dopo la morte di San Francesco e costruirono il primitivo convento francescano e la chiesa poi dedicata a San Francesco l'attuale chiesa di San Francesco fu consacrata nel 1336 e come sapete successivamente verso la fine del 300 furono fatti questo ciclo di meravigliosi affreschi da Mello da Gubbio e della scuola che recentemente sono stati riscoperti e la chiesa conteneva anche il politico quattrocentesco nel 1468 di Niccolò di Liberatore appunto detto l'alunno originario di Foligno e poi Cagli ha avuto altri luoghi francescani molto molto importanti nel 1568 fu costruito il convento dei Cappuccini in un sito dove c'era precedentemente un monastero benedettino nel 1600 i frati costruirono un altro convento quello di il convento dell'osservanza di Sant'Andrea che era un altro ramo dell'ordine francescano quello attualmente Sant'Andrea dove a Cagli c'è il ricovero e l'ultimo l'altro convento monastero monastero di Santa Chiara fu costruito nel 1700 quindi a Cagli abbiamo quattro luoghi francescani tre maschili San Francesco e il convento dei Cappuccini San Geronzio e il convento di Sant'Andrea dei Zoccolanti o chiamati anche osservanti riformati e il monastero di Santa Chiara delle Clarisse quindi una città francescana che ancora oggi mantiene queste stupende meravigliose memorie storiche dei conventi tutti i conventi sono in piedi mancano i frati auguriamoci che anche Cagli possa avere ancora di nuovo la presenza francescana nella sua città abbiamo visto gli interni di questo bellissimo monastero e tra l'altro dal periodo abbiamo avuto anche le delucidazioni interessate poi magari bisognerà interessarsi anche per vedere se l'ipotesi formulata è fattibile i costi e tutto il resto chiaramente le autorizzazioni però San Francesco è chiaramente una delle chiese tra le tante belle chiese di Cagli una delle più importanti anche per certi versi quindi magari in qualche altra occasione se si è disponibile potresti delucidarci su altri aspetti importanti di questo vero monumento io in questa chiesa ho imparato a camminare perché era la mia famiglia che aveva le chiavi la gestiva la curava come una seconda casa quindi per me è veramente un piacere poter parlare di questa chiesa benone ringraziamo Giuseppe Aguzzi e lasciamo i Cagliesi e l'invito a visitare più spesso i bei monumenti della nostra città e sollecitare anche amici di fuori a vederli a vedere per godere delle bellezze che ci sono grazie a tutti grazie a tutti